Vi ricordate Jonathan Kassanian? Classe 1981, è un personaggio tv noto al grande pubblico, per la sua partecipazione al grande fratello. In quella stagione, la quinta, condotta da Barbara Durso, vinse il reality show di Canale 5, con il 38% dei voti. Jonathan è stato ospite anche in Sei un mito, questa notte è, per te, ha lavorato, per, la vita in diretta, festa italiana, e, mezzogiorno in famiglia, su Rai 2. Ha condotto la trasmissione sulla moda, Modeland, ha preso parte al film, 2061, un anno eccezionale, di bandzina mentre dal 2008 è diventato ospite fisso della trasmissione, verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Proprio nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi, Jonathan si è messo a nudo, e ha parlato della sua vita privata, incalzato soprattutto dalle domande della conduttrice di Pomeridio 5, Barbara Durso, che lo conosce da anni, e che lo ha scoperto al GIF, avendo tifato, per lui, un'esperienza, quella del grande fratello, che Jonathan non rinnega, amettendo, però, alcuni paletti. Se tu mi ledi sempre al GIF e non riconosci mai il mio talento, e poi difende il padre di tutti i realiti, è un prodotto pulito e genuino. Il suo sogno è quello di avere un figlio. Ho 33 anni, sono cresciuto in una famiglia presente ed affettuosa. Non potrei vivere senza figli, altrimenti sarai un fallito. Lotterò contro tutto e tutti se questo mi verrà negato. Vorrei adottare un figlio. Io lavoro solo, per questo. Al momento si definisce single, e non svela nulla di più sulla sua vita sentimentale. Non sono innamorato, né fidanzato. Ad oggi sono un visilloso dall'amore. Quando proverò l'amore, con la A maiuscola, ve lo dirò. Alla fine, anche un piccolo scope della Tuffanin, che ha mostrato un video in cui si vedrebbero Jonathan assieme all'ispettore, Samaluade, Il Segreto, ovvero, con l'attore, Ioannico e la Pigues, seduti ad un bar. Chi se ne frega.